Un'intera giornata dedicata alla Maiella e alle sue caratteristiche per conoscerne la storia e l'ambiente e soprattutto sapere cosa si fa per tutelare il secondo e tramandare la prima. Si intitola il giorno della Maiella conoscere il parco, l'evento che si sta tenendo oggi all'aurum di Pescara e con cui l'ente parco nazionale della Maiella si racconta affidando ai protagonisti il compito di descrivere peculiarità, parlare di fruibilità, storia, cultura e biodiversità e illustrare i progetti in atto e quelli futuri. Abbiamo sentito l'esigenza di fare un'azione combinata nel senso di presentare la Maiella nella sua articolazione come parco ovviamente, nella sua articolazione di risorse e di impegni. Per cui abbiamo organizzato questa giornata in cui diamo una informazione pur sintetica su diversi aspetti di quello che è la risorsa territorio della Maiella, ma anche di quelli che sono gli impegni che sono necessari per mantenere questa risorsa. Come sta cambiando il parco della Maiella con i cambiamenti climatici? Stanno incidendo questi cambiamenti, questo cambiamento epocale del clima? Noi siamo naturalmente impegnati su tutto quello che rappresenta una sfida che viene dalle condizioni generali sul territorio del parco, quindi voglio dire che siamo impegnati a capire quali sono gli effetti dell'inquinamento generale, compreso l'aumento della temperatura media e su questo noi abbiamo vari tipi di osservatori, abbiamo anche delle ricerche che sono organizzate con istituzioni molto qualificate e che prevedono per esempio in alta quota il rilievo delle variazioni per stare in un sistema, in una rete poi di informazioni che vengono elaborate per capire cosa succede non solo a livello di territorio nazionale ma anche internazionale. Devo dire che noi siamo da una parte testimoni del fatto che il fenomeno dell'aumento della temperatura media è un fenomeno concreto, reale, d'altra parte siamo anche testimoni del fatto che questo incremento della temperatura media pone una serie di questioni nuove, da quelle più vistose che riguardano una minore portata del nostro esorgente, una minore piovosità, quindi voglio dire una minore disponibilità generale di acqua anche ad alcune modificazioni che riguardano sia la flora che la fauna.